Pierino, 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 stavamo dicendo, questi cazzo di gente che organizzano questi qua stanno parlando. Ma che cosa è che si abusi? I chiangoni! Ma che cazzo! 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 Ma organizzò da Sabetta Silvana e da i capologhi! Ma che cazzo! Ma che cazzo! No, sta in una barata! Ma noi facciamo da capi, capi? Ma vediamo cosa fanno fare. Stendiamo un velo pietoso! Speriamo almeno di mangiare bene e decidiamo! Ma visto come è stato l'arrivo e come sta andando l'antazzo Pierino, quattro ore per arrivare Sì, siamo proprio... Sì, c'è questo che non si ferma per niente, ho cominciato a parlare, ho cominciato a parlare, non sai che cazzo... che cazzo te ne... e ho cominciato a parlare, cioè, è una cosa che non si può essere, e mezz'ora che stiamo camminando senza metà, e mi ha pagato un po', Pierino, mi ha pagato? Sì, sì, abbiamo pagato. Ma me la Pierino, non lo sai, perché, quando ho scelto, mi ha pagato, però... No, prometto, mi hanno fatto pagare. C'è, lui ci hanno fatto pagare che veniva assente a questo, che non si ferma per niente, ma non si ferma per niente, ma non si ferma per niente, ma non si ferma per niente, ci sta indicando le strade concave, strade concave, hai capito? Per raccogliere, per raccogliere, ma lì no, basta pensare che qui, è stato organizzato il stagetto da Silvana Sabetta, e veni capo, c'è, caglio, Silvana Sabetta e veni capo, ma mi consiglio, spassionante. E ti spieghi il mattino, la prossima volta? ma io ho visto tornare a smartphone, ma hanno oggi, certi wait, un metro 80, biondo, e poi mi hanno detto che Dini è smart, mi hanno detto che Dini è smart, quindi si aspettavamo qualcosa in più. Nella casa grotta, cosa abbiamo visto? Il posto dove veniva raccolto il letame dell'asino, compagno fedele dell'uomo, per la sopravvivenza, per la sopravvivenza, io che è questo, Luca dice che non serve a niente, non c'è, no, no, istruttiva, educativa, ma devo ricredermi, comunque, a me non mi piace ancora, ma se tu non partecipi, ma se tu non parteci, i pilino, sempre chiangonzo, sempre chiangonzo, giustamente, ecco, la voce della sacra santa, la sacra santa, ma voglio, scusate, stacacceschi, ragazzi, la voce della verità, sempre chiangonzo, cato, i metti sopra, i metti sopra, i metti a destra, poi i putti a sinistra, poi ci fa, mentre noi facciamo un giro, i pilini qui chiangonzo, i portano da prima, che arriviamo a noi, e vediamo sempre i stessi, e, alla fine, ehi, volete pagliare, che fessami di stornare, ma, il cui casetto, ma dai, che piace, guarda, però, aspettificaci, noi c'erano, prima di metterlo in onda, su salvezza, aspettificaci, io, anche 5 o 30, a 4 santa, giustissimo, come sempre, no, no, il suo mentore, il suo mentore, è la mia coscienza, quello che lui, se mi dice che è giusto, vado tranquillo, è giusto? sempre, a me, a me, a me, a me, a me,